Posizione giudiziaria di una dirigente presso l'azienda ospedaliera di Vimercate, iniziativa del Consigliere Buffani e altri del Movimento 5 Stelle. Risponderà per la giunta l'Assessore Mantovani. La parola al Consigliere Buffani per l'illustrazione per due minuti. Grazie Presidente. Assessore Mantovani, visto che abbiamo discusso questa mattina la mozione di censura sulla sua situazione, lei diceva che appunto dall'indirizzo politico, bene oggi ci troviamo a discutere ancora in merito alla posizione di una dirigente di un ospedale che ha nel suo curriculum arresti domiciliari, indagini in corso, perturbativa d'asta, peculato e quant'altro e noi vogliamo capire come mai Regione Lombardia non prende provvedimenti affinché questa persona venga allontanata da quei settori chiave perché non è possibile che una persona di questo tipo continui a poter gestire ruoli apicali all'interno delle strutture pubbliche. Nello specifico l'ultima volta lei mi aveva risposto dicendo che rispetto alla nostra interrogazione in merito alla posizione della dottoressa aveva deciso di recedere dall'incarico dal direttore del Dipartimento Gestionale Amministrativo. Fantastico, noi eravamo tutti contenti, poi abbiamo scoperto guardando su internet e chiamando la sua segreteria che era stata semplicemente posizionata, allora crediamo sia quanto mai doveroso da parte sua che o riesce a farsi rispettare con questi direttori generali che non possono fare il bello e il cattivo tempo oppure insomma torniamo sul punto di questa mattina, ha sotto controllo la situazione dell'ospedale oppure no perché vogliamo capire quali sono le misure che intende prendere Regione Lombardia in merito a questa posizione davvero crediamo ne vada del rispetto e dell'onore di tutta la nostra Regione non possiamo credo andare avanti in questo modo e con questa situazione. Grazie Grazie, la parola per la replica della Giunta, la S. Mantovani per 4 minuti Grazie Presidente. Premesso che i fatti oggetto della presente interrogazione attengono ad ambiti di intervento rientrandi nell'autonomia della azienda ospedaliera interessata e che la risposta resa all'interrogazione 2036 ha avuto ad oggetto i quesiti formulati e si è basata su elementi conoscitivi forniti dalla stessa azienda ospedaliera Si riportano di seguito le notizie fornite appunto dall'azienda di Vimercate In merito ai fatti emersi nel 2013 la direzione aziendale ha segnalato all'ufficio procedimenti disciplinari con nota del 30 gennaio 2014 l'avvenuta sospensione obbligatoria della dipendente a seguito di provvedimento restrittivo, sospensione poi revocata con l'annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari Conseguentemente l'ufficio procedimenti disciplinari il 31 gennaio ha avviato il procedimento disciplinare a carico della dipendente secondo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legge 165 2011 e sue modifiche di integrazioni e secondo quanto disciplinato dal codice disciplinare per l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa Attesa la particolare complessità dell'istruttoria del caso e il contestuale svolgimento dell'indagine penale l'ufficio citato ha deciso di sospendere il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 ter comma 1 del decreto legislativo 165 del 2011 fino al termine del procedimento penale quindi fino alla sentenza definitiva Con riferimento ai nuovi fatti recentemente emersi la dipendente ha comunicato all'azienda il ricevimento della richiesta di rinvio a giudizio in ottemperanza quanto previsto dal codice disciplinare aziendale Con successiva nota del 3 giugno 2014 il direttore della struttura complessa risorse umane ha trasmesso all'ufficio procedimenti disciplinari tale comunicazione ai sensi sempre dell'articolo 55 bis del decreto legislativo 165 e dell'articolo 2 del regolamento aziendale per i procedimenti disciplinari In tale fase l'ufficio ha 40 giorni di tempo per procedere alla contestazione degli addebiti e di fatto avviare un nuovo procedimento disciplinare a carico della dirigente in questione L'azienda ospedaliera di Desi e Vimercate sottolinea come in relazione alla dinamica dei fatti soprarrappresentati appare corretta e tempestiva l'azione amministrativa svolta dall'azienda nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali come anche dal regolamento disciplinare aziendale Si precisa peraltro che le aziende sanitarie nell'esercizio della propria autonomia e sotto la propria responsabilità sono tenute ad ottemperare alle previsioni normative contenute nella legge 190 del 2012 e ai successivi decreti attuativi adempiendo agli obblighi di trasparenza previsti Si osserva infine che nelle regole di sistema per l'anno 2014 già citati questa mattina sono contenuti espliciti richiami alla normativa nazionale in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione delle informazioni e in materia di prevenzione della corruzione Quanto al primo aspetto si è richiamata l'attenzione in ordine alla corretta applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 41 concernente la trasparenza del servizio sanitario nazionale in tema di prevenzione della corruzione si è rammentato che in attuazione della legge 6 novembre 190 del 2012 disposizioni per la prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione le aziende sanitarie sono tenute ad adottare entro il termine del 31 gennaio 2014 il piano triennale di prevenzione della corruzione che di regola include anche il programma triennale per la trasparenza e l'integrità realizzato col decreto legislativo successivo 33 si è evidenziata inoltre l'importanza della diffusione di una cultura della prevenzione del fenomeno corruttivo attraverso il coinvolgimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione di tutte le figure dirigenziali aziendali alle quali sono stati demandati l'applicazione delle misure di prevenzione di monitoraggio dell'attuazione del piano e l'introduzione delle azioni correttive le azioni aziendali come previsto dal piano nazionale di prevenzione della corruzione vengono inoltre inserite in forma di obiettivi nel piano delle performance anche in funzione della misurazione della performance individuale quindi come vedi siamo nell'attesa della scadenza dei 40 giorni previsti dalle regole ahimè se volete il mio parere personale che sono previsti dalle leggi vigenti grazie la parola per la replica al consigliere Buffagni grazie presidente beh assessore lei sa quanto noi teniamo alle regole è quanto mai paradossale però che questa persona si trovi in questa condizione da marzo e casualmente questa question time viene presentata e casualmente qualche ora prima viene fatta ripartire questa procedura nei confronti di questo avvocato quindi io credo sia quanto mai una cosa casuale e poco efficiente efficiente come ospedale perché a questo punto doveva farlo per tempo è inutile poi parlare di prevenzione della corruzione e quant'altro se noi mettiamo in figure apicali queste persone allora lei prima stamattina ci diceva che la politica ha un ruolo di indirizzo bene io credo che da parte sua questa possa essere un esempio nel quale può far valere la sua pressione politica dato che non ci sono posti di lavoro ma bisogna tutelare in questo caso un'azienda ospedaliera anche se non è di Arconate quindi crediamo davvero sia necessario da parte sua intervenire con una pressione politica affinché il direttore generale indipendentemente da questi 40 giorni prenda provvedimenti perché non è possibile poi stupirsi del perché ci si trovi una marea di dirigenti coinvolti in queste azioni di corruzione quando anche davanti a un'indagine così grave e con degli atti così gravi noi ci appelliamo alla normativa alle regolamentazioni a tutti dei cavilli che insomma sui quali la politica dovrebbe anche un po' passare sopra grazie 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 a tutti grazie a tutti